Sarà un 6 gennaio da trascorrere in campo a sudare e non certo a casa a festeggiare per le squadre piacentine di palacanestro, impegnate nel campionato di Serie B. Becchery Basket e Fiorenzola Bis giocheranno entrambe domani pomeriggio alle 18, facendo così il loro esordio in questo 2021 a caccia di un pronto riscatto. La Becchery di Coach Campanella è chiamata a riprendere il cammino dopo la sconfitta nell'ultima gara del 2020 in casa di Vigevano. Per riuscirci dovrà battere al Palabecchery Piadena, formazione che insegue a sole due lunghezze di distanza proprio i biancorossi, attualmente secondi in classifica. Devono riprendere il cammino interrotto anche i Fiorenzola Bis di Coach Galetti, impegnati sul campo di Varese. Le due sconfitte consecutive in campionato hanno fatto sprofondare il giallo-blu nei bassi fondi della classifica, con soli due punti guadagnati in questo primo scorso di stagione. I bis si affideranno come sempre al loro prolifico attacco che finora ha mandato in doppia cifra media ben 4 giocatori.